Cosa cambia con le nuove linee guida internazionali sulla terapia dell'artrosi? Le novità sono tante, noi ne parliamo con un vero esperto con il dottor Gian Antonio Saviola. L'abbiamo incontrato qui a Sirmione in occasione del quarto congresso nazionale del Geodate, un gruppo di studio interdisciplinare che si occupa della relazione tra l'edema osseo, un indice di sofferenza dell'osso e le patologie articolari su base infiammatoria e degenerativa. Il primo elemento nuovo delle linee guida internazionali sia quelle dell'Oarsi sia quelle dell'ACR è il ruolo del paracetamolo che è stato fortemente ridimensionato. Cosa ci può dire dottor Saviola? Dico che a causa di alcuni eventi spiacevoli che sono accaduti soprattutto negli Stati Uniti negli ultimi anni si è preso atto che il paracetamolo può essere una molecola con una tossicità prima sconosciuta e pertanto è stato in qualche modo declassato. Solo qualche anno fa si consigliava di aggredire l'artrosi con 4 grammi di paracetamolo, oggi addirittura l'Oarsi lo sconsiglia proprio in virtù di quello che gli epatologi hanno considerato un vero problema. C'è anche da dire che 4 grammi è un dosaggio che in Italia mai verrebbe utilizzato, quindi è qualcosa che riguarda gli Stati Uniti e non tanto l'Europa o sbaglio? Questo può anche essere vero, tuttavia ci sono altri lavori importanti che mostrano che a fronte di una riduzione del dosaggio l'efficacia sull'osteoartrosi diventa assolutamente trascurabile e quindi questo direi fa il paio con quanto detto prima. Certo, ecco l'attenzione si è posata anche sulla morfina e sui suoi derivati, quindi potenti analgesici che appunto quando l'artrosi colpisce duro venivano utilizzati. Adesso l'orientamento dell'Oarsi è che sconsiglia fortemente alcuni morfinici e questo perché negli Stati Uniti si è assistito a una vera emergenza con addirittura 70.000 morti in un anno e che le autorità ritengono causati da prescrizioni improprie a cui hanno poi seguito numerosissimi episodi di dipendenza, quindi questi pazienti a cui era stato prescritto il morfinico alla fine e hanno ritenuto più breve andarselo a trovare all'angolo della strada, sono diventati dei veri tossicodipendenti e da qui addirittura all'exitus. Sì, in America è successo un vero e proprio disastro, ecco di conseguenza nelle linee guida hanno preso di nuovo le buone, i FANS e i COCSIB per trattare il dolore e trattare l'infiammazione, cosa ci può dire a questo proposito? Innanzitutto le linee guida dicono che se è possibile non utilizzare farmaci ma trattamenti o fisioterapici, riabilitativi, riallineamento delle articolazioni, questo deve precedere l'utilizzo dei farmaci. Poi i primi farmaci sono i FANS per via transdermica, seguiti poi di nuovo dai FANS e i COCSIB, naturalmente tenendo strettamente presente quelle che sono le controindicazioni e le comorbidità che tutti conosciamo. Quindi questi sono ritornati in prima linea. Ecco questo per quanto riguarda le linee guida, però qui siamo al congresso di Geodate, quindi una società che dedica la sua attenzione all'edema osseo e quindi diciamo a un qualche cosa che è sottostante a diverse patologie. Ecco nel caso dell'artrosi voi avete un'idea un po' diversa rispetto a quella appunto americana, ecco ce la può spiegare? L'idea che abbiamo ma non solo noi e non solo da adesso e ormai da qualche, da parecchi anni è che l'artrosi non sia soltanto una malattia della cartilagine ma abbia un altro epicentro importante che è l'osso subcondrale. Cosa succede nell'osso subcondrale? Si forma una sorta di osteoporosi localizzata, addirittura con delle microfatture, con le trabecole che si sgiungono e quindi questo indirizza verso l'utilizzo di farmaci che penetrano nell'osso e modificano questa situazione. Da qui al utilizzo di farmaci per l'osteoporosi il passo è breve, del resto ci sono già alcuni lavori che mostrano come a livello dell'osteoartrosi sia presente l'edema osseo e sull'edema osseo proprio questi farmaci riescono ad avere un'azione assolutamente molto molto importante. Si riferisce in particolare ai bisfosfonati o bisfosfonati oppure ci sono anche altri farmaci utilizzati per l'osteoporosi che possono tornare comodi anche per l'artrosi? Per quanto ad ora siamo riusciti a comprendere sono i bisfosfonati in particolare due, il clodronato e il neridronato che hanno già alcuni lavori più lavori in cui è evidente l'efficacia in questi casi. Quindi meno paracetamolo, anche niente, meno morfina e derivati perché comunque gli analgesi maggiori in utilizzo sono tanti, fa se coxib ma anche appunto un vantaggio nell'impiego dei farmaci invece prescritti normalmente per l'osteoporosi. In questo momento evidentemente è ancora una fase di ricerca in atto quindi non posso dire che siano farmaci prescrivibili, sarebbero comunque degli off-label ma noi stiamo studiando stiamo studiando proprio perché c'è questa necessità di trovare farmaci meno tossici e più efficaci e che vadano al cuore del problema che probabilmente è proprio l'osso subcondrale. Grazie. Grazie.